E Bitcoin ce la fa di nuovo perché ritorna a fare nuovi massimi, un po' lo attendevamo perché avevamo un po' il fiato sul collo, almeno io ragazzi, perché per me i massimi nuovi ad aprile erano molto rilevanti per farmi stare un po' più tranquillo su alcune posizioni in quanto il mercato rischiava un po' di fare degli swing di bassissi troppo pronunciati. Invece con l'aggiornamento dei massimi questo porta la situazione di Bitcoin per il mese di aprile in una situazione un po' più tranquilla, un po' più tranquilla tra virgolette perché vedremo oggi nel video quello che secondo me è lo scenario che in questo momento sto seguendo per quanto riguarda aprile e dalla quale mi sto proteggendo se così vogliamo dire. Però questo scenario ragazzi è uno scenario che si alleggerisce molto proprio grazie ai nuovi massimi che Bitcoin ha fatto ieri e anche oggi perché stanotte ha aggiornato un nuovo ATH per il re delle criptovalute. Siamo arrivati, non siamo arrivati, può continuare ancora 80.000, 100.000, 1.500.000, i target, ognuno si inventa la sua ragazzi. Quello che bisogna fare su mercati così forti è una cosa che dico da due anni e mezzo da quando ho aperto questo canale. Ragazzi, trend is your friend, al di là di tutte quelle che sono le analisi, poi dovete essere degli investitori, dei trader bravi, se non lo sapete fare è meglio che vi formate perché i mercati sono complessi, al di là di tutto. Poi non do così, non ci sono di scrivere il trend, è rischioso tutte quelle roba lì. Però ragazzi bisogna seguire sempre il trend e prepararsi con le diverse analisi, le diverse opinioni a quelle che potrebbero essere dei futuri alternativi e quindi proteggersi. Questo è quello che fa l'analista, lo ripeto costantemente perché c'è sempre qualcuno che dimentica un po' questa cosa, ma lo capisco ragazzi, è normale. Chi non è abituato da anni a ragionare così non capisce, magari alcuni ragionamenti ci arriva un po' più tardi, però piano piano, piano piano, piano, io batto sempre il martello contro il chiodo. Va bene, allora andiamo sui grafici che ho davanti a me perché ve ne faccio vedere tre oggi, andiamo a vedere quello che è il mio scenario di aprile, quello che penso che si possa configurare ad aprile, anche se spero non lo faccia, però un po' il rischio c'è, come diceva il nostro ex presidente. E quindi andiamo a vedere questa configurazione e vi faccio vedere due grafici più uno all'ultimo che è un grafico immaginario che vi porto per farvi vedere che cosa andremo a vedere poi prossimamente su canale 5, come si diceva una volta. Va bene, allora ragazzi, prima iscrivetevi però, e che cavolo, iscrivetevi, mi piace, mi piace, che devo dire, non lo so, faccio un selfie con i mi piace. Ragazzi, lasciatemi un mi piace sul canale, mi aiutate, mi aiutate con i video, come sempre, mi fate anche capire se vi piace o meno un contenuto, così ci butto maggiore attenzione. Allora, analisi ciclica di bitcoin, time frame daily, quello che stiamo seguendo in questo momento è il nuovo ciclo mensile, che è iniziato lo scorso 25 di marzo, tutto filaliscio, questo ciclo era stato leggermente più corto, questo mi porta anche a una idea, magari che potremmo avere un ciclo leggermente più corto, quindi ternario, questo discorso però deve essere confermato dal prossimo minimo, quindi al momento diciamo, insomma siamo qui intorno al 20, mancherebbero 4-5 giorni per fare un eventuale ciclo piccolo come quello di marzo, e poi concludere la questione diciamo con un minicicolo che potrebbe essere tra i 15 e i 20 giorni intorno alla legate di marzo, quindi di maggio scusate, in questa zona e poi chiudere il movimento a tre strutture. Allora, la questione è possibile? Assolutamente sì, allora vi faccio capire subito quello che era la mia logica per il mese di aprile, di cui ho parlato, ma non ricordo se ne ho parlato tantissimo qui sul canale, perché ne ho parlato tantissimo in academy ragazzi, stiamo seguendo questa view ormai veramente da un po', per quanto riguarda il mese di aprile, però oggi la vediamo. Allora ragazzi, io per il mese di aprile la mia idea è questa, allora qui siamo in un eccesso statistico abbastanza rilevante, sei mesi di fila rialzisti, questo è il settimo di fila, allora se sei erano già un eccesso, sette sono un eccesso di un eccesso, dovesse fare una verde anche ad aprile, maggio diventa un eccesso, di un eccesso, di un eccesso, vabbè lo so che sto un po' esagerando, però ragazzi è così statisticamente, siamo su dati di natura outliers, si chiamano così, dati che sono totalmente fuori dal normale, i mercati non continuano su anormalità per sempre, questo toglietevelo dalla testa, quindi poi rientrano nella media, allora per fare questo tipo di discorso, se esagerano da un lato, poi esagerano anche nel rientro, quindi è sempre meglio avere più calma, più tranquillità, è sempre meglio progredire secondo quella che è la struttura naturale del mercato, quindi avere sette mesi di fila all green non è che mi dispiace, io sono contentissimo perché sono full hold, di nuovo tra l'altro da un mesetto più o meno, prima avevo tolto il 20%, ma ragazzi ora che mi dispiace, però è sbagliato, questo è il problema, cioè per il futuro di bitcoin potrebbe essere una cosa un po' eccessiva, che poi causa volatilità, butta fuori tutti quelli che non sono abituati a stare sopra le montagne russe, fa male ai nuovi arrivati, piccolini, sempre quelli che poi beccano i calci ragazzi, quindi questo è il discorso, auspichiamo che il mercato salga con una logica, con una tranquillità, con una direzionalità accettabile e che non faccia invece gli scossoni che poi danno fastidio a tantissime persone, allora per quanto riguarda il mese di aprile, quello che mi aspettavo, perché vi dicevo che il mese doveva fare questi massimi ed erano molto molto importanti? Perché nell'analisi di quello che è la struttura delle oscillazioni dei range ragazzi, questi sono i range di bitcoin in termini percentuali di ogni mese, al di là di questi pump l'ultimo era stato il 20 marzo dove fece il mega ribassone, poi c'è stato febbraio che è stato uno dei mesi più volatili, vedete, del bull run dopo marzo, perché poi abbiamo avuto un ribasso, poi questo mese, poi c'è stato marzo che è andato giù, per esempio con un 30% e siamo ad aprile. Ora, qual è il discorso di un range? Come si calcola un range? Ragazzi, il range è la differenza tra un massimo e un minimo della candela, quindi all'interno del mese, perché queste sono candele mensili. Se il range tra massimo e minimo deve essere ampio, una determinata cifra, e in questo caso almeno il 15%, se non faceva nuovi massimi bitcoin ragazzi, vuol dire che questo range poteva allargarsi dalla parte del minimo, e questo era la mia paura. Invece facendo nuovi massimi come ha fatto ieri e oggi, questo ci porta più tranquillità. Perché? Perché a livello di range siamo già su una struttura accettabile, non dico ragazzi che sia il top, ok? Siamo intorno al 14% di range ad aprile, di range mensile. Questo significa anche in sostanza ragazzi che potrebbe finire qui e tutto è a posto, oppure può aggiornare ancora un altro po' con i massimi e portarsi magari con un 3-4% intorno al 20% e poi magari scende di nuovo, fa il suo movimento di chiusura del ciclo mensile, però non crea particolari problemi. Mentre invece, prima del pump che c'è stato negli ultimi giorni ragazzi, eravamo intorno ai 59%, aveva un 10% che poteva fare al ribasso, e quindi era molto pericoloso, soprattutto vista l'eccesso che abbiamo di candele verdi sul mensile, sui livelli del grafico mensile. E in questo caso ragazzi, questo rialzo è veramente molto rilevante da un punto di vista di rischio e ci limita un po' quelli che potrebbero essere anche i successivi atteggiamenti di aprile. Successivi atteggiamenti di aprile, ragazzi, quali sono, cosa mi aspetto? Allora, i successivi atteggiamenti di aprile potrebbero anche da qui, magari non siamo arrivati proprio ai miei target, io avevo indicato in Academy ragazzi nelle scorse settimane un target intorno ai 65-66 mila dollari, quindi in quella fascia lì, l'ha quasi toccata stanotte perché è arrivato a 64,8, però non è riuscito diciamo ad entrare nella fetta, quindi insomma. Poi ovviamente queste cose non è che sono molto rilevanti a livello operativo, quindi non mi focalizzo diciamo sul numerino ragazzi, non mi interessa, siamo sempre trend follower, quindi non mi interessa dove di preciso va a fare, però ragazzi cosa succede? Potrebbe innescare anche una chiusura da qui in poi o dall'eventuale nuovo massimo in poi, cioè da 65 in quella fetta, 65-66, per il mese di aprile, andando anche sotto l'open di aprile facendo la famosa candela rossa. Questa cosa se la fa dagli attuali prezzi non disturba quello che è il trend appunto di lungo periodo di bitcoin, anche per i prossimi mesi sarebbe quasi salutare, anzi vi dirò di più, quasi quasi, lo spero ragazzi, non perché sia una cosa negativa, ma perché fatta proprio nel mese di aprile o una cosa del genere potrebbe significare diciamo una fase di riposo del mercato senza proprio il minimo danno e questa è, insomma, è interessante ragazzi, perché immaginate una cosa del genere, in questo momento siamo qui, questa è l'open, vedete, del mese di aprile, il mercato magari sta facendo i suoi massimi, dai massimi a un certo punto per la fine del mese, cosa fa? Se ne riscende piano piano e va di nuovo in questa zona sotto l'apertura e fa una candela rossa, ok? Fa una candela rossa chiudendo magari aprile a 58.000 dollari, ma io ci metterei la firma ragazzi perché sarebbe una micro candela rossa, semplicemente un riposo, spezza questo eccesso statistico, dopo di che si riparte, ok? È una figata, allora se fa una cosa del genere tutto sommato è anche molto bello ed è anche molto positivo per il futuro ragazzi, se continua a fare verdi su verdi ci adattiamo che dobbiamo fare, però è ovvio che poi a maggio diventa ancora una volta più eccessiva la questione, quindi in questo momento il mercato ragazzi si segue sempre, però un atteggiamento di Bitcoin da qui che fa il massimo, magari ho già fatto 64.8, potrebbe arrivare magari intorno, vi ripeto, nella forchetta 65.66 e poi magari va in chiusura del mensile che fa sempre la chiusura diciamo entro fine mese e magari si porta a costruire una candela rossa qui, sarebbe un mese tutto sommato accettabile che va magari a configurare quella che è una piccolissima candela stile questa qui, giusto per farvi capire ragazzi, ok? Questa che vi sto facendo vedere, che non ha nessun rilievo per il prosieguo del trend di Bitcoin, ma che spezza questo eccesso statistico e tutto sommato sarebbe, secondo me, auspicabile per il mercato. Ovviamente non è che sto lì a fare short, ci mancherebbe, ora qualcuno di voi inizierà a scrivere che io ho detto che il mercato crolla per questa cosa, vabbè ragazzi, ormai la prendo a ridere perché veramente non so più come fare con queste situazioni, vabbè, però, allora ragazzi, questo è un atteggiamento che è uno scenario che ad aprile tutto sommato sarebbe accettabile. Noi in Academy stiamo seguendo questo scenario, non significa che siamo fuori, io sono fuori da un'operazione di breve da oggi perché ho fatto take profit e mentre medio e lungo, vabbè, lungo è sempre always hold, ma il medio abbiamo un trading system che è dentro ragazzi e il medio termina, lo gestisce il trading system, quindi io esco da quelle posizioni se e quando il trading system esce, non in base a queste analisi, anche perché credo che un ribasso ad aprile di questo tipo sia estremamente salutare per i prossimi mesi. Allora, poi, potremmo andare a toccare, in senso, per questa, diciamo, cosa, prendo il bitcoin gold, ragazzi, che non è quello del, ok? Perché poi potremmo andare a fare i famosi 67 e over, entro agosto, e vi cazzo sta cazzo. Tra l'altro l'ho scelta la canzone, ma ditemi le vostre proposte per fare questa gag, ragazzi, perché la sto pensando, scrivetemi nei commenti le proposte della canzone da cantare, sarà la canzone di tutta Italia, penso. Va bene ragazzi, allora andiamo a vedere quello che invece è nel breve, la situazione, ovviamente bitcoin potrebbe andare in chiusura di questo ciclo mensile. Tra poco siamo nella struttura, nella normalità, e potrebbe fare appunto una cosa del genere. Un classico di bitcoin, quello che vedete, per esempio, che ha fatto anche negli altri mesi, nei mesi scorsi. Tra le altre cose, c'è un grafico che voglio farvi vedere, proprio perché, che tra l'altro ho postato proprio questa mattina in Academy, quindi vi faccio vedere questo grafico, perché c'è un eccesso e una configurazione di un pattern che potrebbe indicare, ancora una volta, che il mercato, per questa fase del ciclo mensile, sta facendo, diciamo, il suo topping. Ovviamente io non esco mai, in base, ragazzi, ai take profit su mercati così. Preferisco sempre uscire, poi, in trailing stop. Però, ovviamente, nel breve si può tranquillamente pensare a una cosa del genere. Vi faccio vedere il grafico. Eccolo, ragazzi. Allora, questo è il grafico che ho postato anche oggi. In pratica, cosa vi dice? Vi faccio un leggero zoom. Allora, cosa vi dice? Vi dice che, sulle bande di Bollinger, per quanto riguarda bitcoin, sul, diciamo, movimento, sul time frame daily, siamo arrivati a fare il break della famosa banda di Bollinger, superiore, quindi l'upper band, all'upper band, che praticamente ha innescato cinque volte, ragazzi, in questo caso, vedete, uno, due, tre, quattro, su cinque volte, ha innescato quattro volte la chiusura dei cicli mensili, mentre uno ha fatto il fake, perché in realtà era partito da pochissimo il mensile, quindi questo era anche molto forte, anche per questo uno non ha innescato ovviamente il fake, perché non era coerente con quella che poi era il timing giusto, però questa fase qui potrebbe essere in effetti una fase che va poi a innescare la chiusura come ha fatto magari qui, magari qui è stata estremamente pronunciata e non mi aspetto un crash di mercato in questa fase molto molto pronunciato, però la chiusura che ci, diciamo, che fa normalmente ogni mese potrebbe in effetti avvenire tra qualche momento, insomma ragazzi, mancherebbe ancora un po' perché in realtà è attesa tra il 20 e il 25 di aprile, perché la precedente era stata il 25 di marzo, quindi un po' di tempo manca e perciò ragazzi fra Bitcoin potrebbe ancora avere spazio di aggiornare questi massimi e portarsi appunto in quello che vi ho detto essere la forchetta 65, 66 se ci arriva che potrebbe essere accettabile per il mese di aprile e poi si vede. Allora, se si va a configurare quello che vi ho detto in questo video tutto sommato è una cosa secondo me estremamente positiva ma anche diciamo ragazzi poi qua bisogna stare a vedere il mercato cosa disegna però io un po' in sospiro di sollievo in questa fase per aprile lo tiro perché i nuovi massimi erano estremamente importanti proprio per quello che vi ho detto facendo nuovi massimi anche se si va a configurare una chiusura mensile bruttina per il mercato mi fa stare comunque più tranquillo perché partiamo da un livello più alto questo è quello che penso fatemi sapere cosa ne pensate voi ragazzi e poi ah giusto mi sono dimenticato mi sono dimenticato questo grafico ragazzi questo grafico questo grafico qui è l'analisi di lungo periodo di bitcoin ed è questo grafico con una serie di indicatori nuovi totalmente aggiornati e delle previsioni ghiotte che dovremmo andare a fare lo guarderemo nei prossimi video ragazzi ok quindi iscrivetevi se ancora non l'avete fatto ciao a tutti grafico